amici di atti sport 24 benvenuti ad una nuova puntata di due metri la pallannuoto vista da vicino abbiamo il piacere di ritrovare oggi con noi l'attaccante mancino dell'equipo orizzonte catania giulia immolo ciao giulia bentornata grazie per aver accettato ancora una volta il nostro invito ciao ciao a tutti grazie a voi giulia ripartiamo da quella che è stata la vostra grande vittoria nella semifinale contro la roma a distanza di qualche giorno come rivaluti la vostra prestazione di sabato scorso la valuto come una prestazione molto positiva ma soprattutto per la reazione che abbiamo voluto abbiamo cercato di squadra e in poche ore abbiamo ripreso le redini di quello che era il nostro gioco e ci siamo imposte da subito dal primo minuto è stato bello perché ci eravamo ripromesse di giocare con con onore perché comunque giocare in casa nostra vogliamo che si senta che c'è un'aria diversa è stato quello che abbiamo cercato l'abbiamo ottenuto consapevoli che è un passettino abbiamo raggiunto ora quello che era importante arrivare in finale ora vogliamo giocarcela prima di andare ad analizzare la serie di finale ti chiedo anche quali sono i segreti quello che ovviamente ci puoi rivelare che si celano dietro alla vostra trasformazione perché ripercorrendo un attimo i passaggi l'orizzonte aveva messo su diciamo sul binario giusto anche gara 2 fino a metà del terzo quarto per poi subire il prepotente ritorno della roma ma a mio avviso anche calando un po anzi in maniera significativa nella sua prova che cosa è successo tra gara 2 e gara 3 perché dal finale di gara 2 all'inizio di gara 3 è sembrato di passare da pulcini a leoni se mi permetti questa immagine quello che ti posso dire è che ci siamo ritrovate anche semplicemente a parlarci in una stanza e a ricordarci quello che siamo perché non è che in due tempi ti dimentichi come giochi a pallanuoto come si gioca pallanuoto è una vita che lo fai semplicemente anche ricordarselo ripeterselo a volte fa bene per fare ordine mentale spazzare via qualche qualche idea che magari ti sei fatto sbagliato di te di quello che hai dimostrato ci può essere ci possono ci succedono soprattutto nello sport i scivoloni ma la forza del gruppo è quella che poi fa rialzare il singolo e questo è quello che poi abbiamo dimostrato contro la roma nell'ultima partita e chiuso il capitolo semifinale si apre l'ultimo atto della vostra stagione la finalissima la serie inizia venerdì gara 1 in trasferta contro l'antenore plebiscito padova che partita sarà allora sarà una partita sicuramente combattuta perché siamo entrambe due squadre molto molto attrezzate molto eh determinate e vogliamo onorarla sicuramente questa finale perché è un anno e mezzo che aspettiamo di poter giocare queste queste partite e sicuramente penseremo partita per partita perché alla meglio delle cinque lunga e quindi è meglio porsi brevi obiettivi e eh giocarsela la stiamo preparando come la staranno preparando loro e ora stiamo stiamo aspettando con ansia io ti chiedo in una serie come hai detto tu lunga psicologicamente quanto conta è vero che si vince eh vince chi arriva per primo a tre ma quanto conta portare a casa la prima partita? Conta tanto perché perché non ci prendiamo in giro cioè se vinci la prima eh affronti sicuramente gara due in modo diverso poi però essendo lunga non non puoi neanche permetterti poi di sederti su questa cosa perché comunque ehm giochiamo contro una squadra eh molto forte quindi niente poi è dato al caso non è che sei vinto la prima allora vinci la seconda eh è importante perché è come dire la maratona non la vinci con l'ultimo chilometro no? La vinci anche col primo passo e è giusto entrare col col giusto piglio giocarsela e dire ok eh ho fatto quello che ho preparato e poi guardiamo il risultato. Certo. Quali saranno le mosse o eh le chiavi tattiche e psicologiche eh che secondo te potrebbero risultare decisive per raggiudicarsi la serie? Chi avrà la meglio tra voi due? L'ultima domanda è sempre quella che è la più difficile. C'è ancora ce n'è ancora qualcuna più difficile di questa pensa. Benissimo sono pronta e quello che posso dirti che come abbiamo affrontato eh gara tre eh sicuramente affronteremo anche le prossime gare eh di dividere la partita in quattro tempi di modo che ti concentri su otto minuti ok accantoniamo pensiamo a secondo tempo proprio per eh fare far sì che la concentrazione sia eh in questi otto minuti e non rischi di divagare eh oddio eh ci sono ancora tre tempi siamo sotto siamo sopra no eh ferme stabili su quello che è un'azione 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 una difesa una difesa. Quanto pesa eh sul fronte della formazione veneta l'assenza in gara uno di Ranalli? Sicuramente pesa perché lei secondo me è un atleta di tutto rispetto eh molto giovane eh non so se si può dire cazzuta e è un termine tecnico in francese diciamo che si dice così eh sicuramente pesa perché eh molte azioni girano comunque anche intorno a lei in attacco e però la squadra di per sé ha dimostrato comunque sabato che eh vale vale tanto anche eh con la sua assenza. Certo e chiudiamo la nostra chiacchierata con la tanto temuta ultima domanda. Molto semplice in realtà. Quale percorso vi accompagnerà fino al fischio d'inizio? Tante ore di allenamento, tante ore insieme eh che poi il lavoro eh quello diciamo fieno in cascina l'hai messo già durante l'anno. Ora sta nel eh fare i dettagli e sicuramente si fanno stando stando insieme provando tattica eh video eh e goderci, goderci questo momento, questi momenti insieme perché poi sono è figo perché stai preparando una finale scudetto, non è scontato che tu inizi l'anno e dici sì a maggio sarò a preparare le finali scudetto, ci speri, ora ci sei e quindi tutto sta nel goderselo, divertirsi, apprezzare ogni istante perché un anno fa a quest'ora eravamo chiusi in casa, non ci potevamo allenare. Quindi consapevolezza di di quello che stiamo facendo, godercela, essere felici e apprezzare. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Giulia Emmolo per essere stata in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Giulia, alla prossima. Ciao, grazie.